Il nostro reparto è organizzato con un blocco operatorio posto al terzo piano di questo presidio, attualmente con due sale operatorie funzionanti più un'emergenza, svolgiamo settimanalmente 12 sedute ordinarie settimanali più le urgenze. Attendiamo l'evoluzione in un secondo lotto per avere anche una terza sala al terzo piano e una quarta sala nel blocco parto. Non abbiamo attualmente una rianimazione perché è allocata nella parte dell'edificio che dovrà essere completata con il secondo lotto. Secondo i piani aziendali ci dovrebbe venire una neurorianimazione. Al momento però surroghiamo a questa manchevolezza con un attrezzato codice rosso in pronto soccorso. Ci sono attrezzature che meritano particolare attenzione? L'attrezzature sono quelle classiche della rianimazione, siamo in grado di fare una rianimazione per adulti e pediatrica. Abbiamo tutti i supporti di apparecchiature, apparecchi di emogas analisi, un attrezzato laboratorio di analisi, una pulsosimetria. Credo che da un punto di vista abbiamo i gas medicali portati in tutti gli ambienti, abbiamo eliminato il protossido di azoto dal nostro utilizzo per motivi di sicurezza. Al momento ci manca la rianimazione ma puntiamo a realizzarla in tempi brevi. Grazie.